Benvenuto a tutti come sempre, questo è un laboratorio di una società che lavora sempre lo smalto a livello industriale e che fa da sponsor a un po' di attività del CKI, siamo senza scopo di lucro e vogliamo favorire l'aspetto artistico dello smalto che però è un mezzo per far incontrare persone e anche artisti, artisti appena si cominciano da poco con artisti che hanno i capelli bianchi, la banda viene fatto 40 anni, anche in questo caso il professore di liceo è 60 anni, che spessore hanno? questo qui è 0,8, se dovessimo fare cose grandi allora bisogna andare su 1,2, 1,5 anche 2 mm, bisogna dargli una giratina in modo che non vada i grumi di colla lì perché altrimenti si ottura lo spostatore e non esce niente. la tramelle puoi muoverti con disincoltura, qui bisogna sempre fare attenzione perché blocca il colore però se gli dai una botta così il colore si muove. non so se è castagno ma lo so è una cosa che ho sempre un po' troppo mucca perché deve essere più pieno, un pochino più pieno. quindi non lo temperi prima di fare questo colore? dopo, dopo. perché adesso è morbido. infatti ho sentito... questo è il rame, questo è quando comprate il rame, sempre il rame cotto, non colore. così evitate una tempra, poi quando lo martelliamo schiacciamo tutte le molecole e diventa lì. che si trova il martello di diversi tipi, diverse code, l'atelio li trova nei vari mercatini. si trovano vecchi attrezzi o da ciabattino. il brillante, il brillante se non avesse lo spazzetto, non serve a niente. basta farlo diventare un pochino la rossa. è facile. un tipo americano perché quella nazionale è grossa e lascia tutti i graffi. quindi si comincia ad agli un po' di forno. si comincia dal bordo. il primo giro. ecco bisogna fare attenzione a queste... le devi schiacciare sul naso. questo è quello che adesso è ritornato un po' rigido, poi un po' di giro e poi di sotto stemperà perché adesso l'ho schiacciato ed è ritornato rigido. l'importante è che quando si comincia un giro, con la stessa intensità, nella stessa circonferenza, sempre uguale perché altrimenti si spira. bisogna ricordarsi dove si parte e fare il giro completo. dopo aver sfruzzato con la colla si procede allo polvero. questo setaggio di quant'è? 100 perché lo smalto è molto sottile. questa è la prima passata. io ho dato colla, colore, colla, colore, colla. capito? prima uno strato di colla e uno leggero di colore. adesso vado a bagnare la colla, poi rimetto il secondo strato di colore e metto uno strato di colla per bloccare un pochettino l'alto. e poi lo metto a asciugare. colla, colore, colla, colore, colla. colla, colla, colla. ci, 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 ci. perché se io vado sopra con lo spurtitore mi esce una goccia e mi va nel mezzo. questo è il controsmalto. questo è il controsmalto. faccio adesso così a posto. se faccio piano piano non c'è bisogno nemmeno di mettere la colla perché il colore, il piatto è piatto. allora puoi fare solo due giri. esatto. perché se fosse invece il bordo molto piegato allora bisogna di mettere ancora colla in modo che me lo tieni perno lì. certo. vedi si vede brillare il rame. si. e anche lì il ridò col setaccio. esatto. e poi. e poi. ci si mangia una vezzina di grazie. e adesso aspetti che ritorna a novecento. allora questo è rame sottile se fosse rame da un millimetro e mezzo io l'avrei portato a 9,30 in modo che così compensava con i tempi ma tu cosa fai? li tiri fuori e li lasci di tagli e quali o li schiacci un po'? ma appena appena perché rimangono belli dritti da soli non li tocco non mi piace Adesso sto facendo il contrario Poi per aiutare la cottura Questo è il fondente Essendo fondente aiuta la fusione E aumenta la trasparenza Adesso l'importante è questo Riuscire a asciugarli bene la sopra Con molta calma E cuocerli almeno a 910-920 930 sarebbe l'ideale Però è rischioso Perché sei al limite Bruci in un attimo 915 dovrebbe andare bene Poi vediamo se Possiamo aumentare qualcosina Ma ci metti la colla ancora adesso? No, basta così Quegli aghi lì di smalto che si vanno dentro la pelle Adesso il bordo Vedi? Se lo pulisce E togli l'ossido Però qui non di qua Perché qua te lo porti in alto E te lo sbatte nel naso Sticchiare il colore Dallo smalto in alto Dallo smalto in fuori Dallo smalto in fuori Dallo smalto in fuori Quello lì è rosso trasparente E' rosso trasparente che va bene anche questo per il giacchicchio E' shower anche quello lì 8 8 Ho 8 8 8 8 Per il graffito O bianco opaco O rosso trasparente Sono i due quelli più comuni Però può andare bene anche su un colore chiaro Un blu scuro trasparente Un verde scuro trasparente Contrastante che siano trasparenti, il bianco invece va bene perché è cotto forte e cosa succede? che questo qui quando cuoce forte penetra in quello sotto lo allarga e fa quell'effetto la, questo qua è cotto poco poi qui invece lo cuociamo di più allora il bianco non rimane più niente penetra in quello più sotto quello più duro e lo costringe e ti fa degli effetti particolari effetti che sono a centinaia e c'è ogni colora, ogni sola posizione, non finisci più però non si sbaglia mai allora io ho dato sotto uno strato di colla leggero un velo di bianco leggero io l'ho lasciato qui nel mezzo adesso gli metto un velo di colla leggero leggero e lo metto asciudato tu vedi il disegno bello chiaro con due colori trasparenti perché se cuoci forte il disegno non lo sparisce ma se cuoci poco il disegno ti mantiene allora è bene fare con due colori contrastanti sempre uno scuro su uno chiaro oppure viceversa però Armando una cosa ti ricordo che ieri hai detto tu non li hai lavati questi smalti no no però ieri mi hai anche detto che a un certo punto la polverina fa venire fuori qui però se cuoci ad alta temperatura la polverina sparisce questo qui cosa succede che tu la punta smuovi il granello di colore poi basta battere appena appena leggero leggero cade quello che hai toccato e rimane quello che non hai toccato poi cuocendo sempre a una certa temperatura e allora vediamo il doppio effetto una semplice raggela poi dopo chi vuole cercare il disegno sofisticato se lo cerca una cosa semplice il graffito più è veloce orribile però l'effetto che dobbiamo vedere poi da tutto il disegno puoi fare anche ricercato però cuocendo poco se ce lo fai il disegno ricercato cuoci molto il disegno era e l'ha lasciato finchè è tornato a 890 si l'ha tolto a 890 ha messo a 890 il tempo che ha risalito il foglio perché appena ha messo dentro è sceso giù poi lo fai riprendere un po' questo andava cotto di meno questo andava cotto di più però per vedere più o meno lo stesso effetto su un pezzettino l'abbiamo fatto ovviamente la battuta sotto e allora si intravede tanti effetti questo è il crackle con il graffito di base questo è il crackle senza graffito di base questo è il crackle senza graffito di base per quanto sciacqui rimane sempre un piccolo residuo di colore e allora è inutile a stendere quello che si pizzica no? no mi fa spesso quindi è abbastanza alto anche una leggera buccia d'arancia al centro ok 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 ok